Il secondo raduno aereo del Littorio. Il campo dell'aeroporto di Miramare ha visto l'atterraggio di 62 apparecchi di 10 nazioni provenienti da vari aeroporti per prendere parte alla prima tappa del circuito Rimini-Torino-Milano-Venezia. Il campo dell'aeroporto di Miramare ha visto l'atterraggio di 62 apparecchi di 10 nazioni a Rimini si notava il rosso Breda della Marchesa Carina Negroni, la più nota fra le numerose pilote in gara.